Io ero abbastanza tranquilla e siamo andate a prendere una pizza tutti insieme, io e i miei compagni di classe, poi a letto presto perché comunque oggi era una mattinata dove bisognava essere concentrata. Era abbastanza impegnativa, eravamo tutti qui a dipingere sul telo che stavo messo dalla preside per non sporcare il muro. Bene, siamo venuti qui fuori dalla scuola e siamo scaricati un po' prima dell'esame. Ma la tensione è normale perché comunque è una prova che ci dicono dalla terza che va affrontata in un certo modo, un certo rigore, una certa preparazione, però comunque noi un po' si è esorcizzata questa tensione, si è fatta un po' di scene, di festa. Comunque ieri sera ci siamo ritrovati e siamo venuti qua davanti al liceo. Ma ho dormito, quindi ho letto alle 10. Passato il tema, adesso arriveranno gli ostacoli più grossi. La seconda e la terza prova, quelle che fanno più paura. Domani matematica è tosta, però siamo preparati, tutto l'anno ci siamo preparati a questo momento e quindi lo viviamo in meglio. La terza, con il quizzone, le domande, insomma, ho molta paura. Sicuramente la terza prova, perché comunque è quella che riguarda un po' tutte le discipline, però vabbè, aspettiamo i 25 e vediamo. La parte più difficile è domani che c'è la prova di matematica. Previsione? Con quanto si passa? Non si dice. Non si dice.